Per la vatiero. L'annuncio dopo il grande fratello. Prende una decisione che non include il fidanzato Mirko Brunetti. Di cosa si tratta? Dopo una serie di tira e molla cominciati ormai un anno fa. Per la vatiero e Mirko Brunetti si sono finalmente ritrovati e finito il grande fratello. Sembrano più uniti che mai. Ogni giorno condividono con i fan i momenti di vita quotidiana che li vede uniti e quasi sempre insieme. Tuttavia entrambi hanno un obiettivo importante. Quello di non ripetere gli errori commessi in passato. Che li ha portati a vivere insieme quando non era il momento e soprattutto a bruciare le tappe. In alcune interviste i due giovani hanno spiegato che, d'ora in poi c'è il futuro, imparando dagli errori passati. Adesso io e lui vogliamo goderci questo momento. Anche con la convivenza ci andremo piano, ha spiegato la salernitana in un'intervista a chi dopo la fine del GF. In particolare, nel corso di questi mesi, Per la vatiero ha raccontato più volte di aver messo da parte se stessa per amore di Mirko. Lasciando la sua città, la sua famiglia e il suo lavoro per vivere una vita in cui non si sentiva pagata. Da questo momento in poi, la coppia tornerà alla, normalità. Più volte sia Per la sia Mirko. Quando il grande fratello era ancora in corso, avevano annunciato che dopo il reality si sarebbero presi del tempo per loro. Ma nonostante queste dichiarazioni, secondo il settimanale di più, Per la potrebbe presto tornare in televisione. Per lei ci sarebbero in serbo grandi progetti anche imminenti. Il sogno di Per la vatiero è la recitazione e ha reso nota l'intenzione di studiare per fare l'attrice. Nello specifico, l'ex GFina ha dichiarato di sognare un ruolo specifico in mare fuori.